Ciao Grouponer, ti mostriamo come acquistare il deal Silvexcraft con lana Babyfit con Swarovski Elements. Per prima cosa vai sul sito di Silvexcraft e crea un nuovo account. Clicca su login, inserisci il tuo indirizzo e-mail, poi clicca su crea il tuo conto. Inserisci le informazioni richieste compilando tutti i canti indicati con l'asterisco rosso, poi clicca su registra. L'account creato ti permette di gestire i tuoi acquisti Silvexcraft. Ora acquista il deal e clicca sul link in condizioni. Controlla se la valuta indicata è corretta, altrimenti seleziona EUR dal menu in basso a destra. Seleziona la collana acquistata e clicca su visualizza. Personalizza la collana con i testi che desideri e clicca su salvatesto. Seleziona il colore e la quantità, clicca su al carrello per aggiungere l'acquisto e poi vai al carrello. Inserisci il codice coupon nello spazio dedicato e clicca su aggiungi. Le spese si azzereranno. Clicca su avanti. Verifica l'indirizzo di consegna e clicca su avanti. Seleziona corriere standard e clicca su avanti. Seleziona il metodo di pagamento. Clicca su confermo il mio ordine e goditi il tuo prodotto.